Bisogna tenere presente una cosa fondamentale, i cosiddetti poteri forti, cioè coloro che comandano questo pianeta, che l'hanno sempre comandato, quindi le grandi famiglie, non solo i grandi banchieri, ma le grandi famiglie monarchiche di tutto il pianeta non hanno la parte animica. Sapete, chi è animico si riconosce, forse dovevamo dire anche questo prima, la parte animica si riconosce da un paio di osservazioni fondamentali. Chi è animico non è amante delle regole, chi è animico è sostanzialmente molto creativo, chi è animico non ha interesse per il potere, non ha interesse per i soldi, è anarchico sostanzialmente. Capite perfettamente che chi invece segue dei percorsi che costituiscono il salire nella scala sociale, l'essere considerato uno che comanda, avere un sacco di soldi, sicuramente solo per questo non è animico. I nostri poteri forti, quindi, non hanno la possibilità in futuro di avere molta coscienza, molta consapevolezza di sé. Non c'è nessuna differenza tra un umano senza parte animica e un alieno senza parte animica. Tutti e due hanno poca coscienza di sé. In questo contesto credono che vivere in eterno sarebbe un traguardo importante per loro. Invece non sanno che è nell'acquisizione dell'esperienza della morte, cioè del nascere e del morire, dell'iniziare e nel finire, c'è la vera consapevolezza della coscienza. La coscienza ha costruito l'universo per imparare l'unica cosa che non sapeva. Siccome la coscienza è eterna, ebbè, cosa vuol dire cominciare, cosa vuol dire finire, non lo sa. E l'unica possibilità che c'hai è quella di vivere in un corpo che nasce, che vive e che muore. Ma chi lo sa questo? Chi è animico, chi ha la consapevolezza dell'anima, della sua mente e del suo spirito, le tre componenti di questa specie di trimurti, di Santissima Trinità, come la chiamano le religioni in qualche modo del nostro pianeta. Ma chi non è animico? Chi non è animico è uno che segue le regole, che ha paura di morire. Un animico sa dentro di sé che c'è l'eternità dietro la morte. avrà paura di soffrire, ma non ha paura di morire. Perché il non animico segue le regole? Il non animico segue le regole perché le regole della società sono la rappresentazione di una scatola dentro la quale tu sei. Segui le regole, sei all'interno della scatola. Non segui le regole, sei fuori. Siccome chi non è animico non ha coscienza e consapevolezza di sé e non sa chi è, ha bisogno di riconoscersi in un gruppo di regole. Ha bisogno di riconoscersi come appartenente a quella scatola lì. Se no non sa chi è. I grossi tentativi di agglomeramento di esseri umani, che possono essere dai metal punk ai partiti politici, alle grosse religioni, al gruppo dei filatelici, rappresenta comunque una serie di scatole in cui la gente si incontra e si riconosce e dove agisce una coscienza collettiva. La coscienza delle api, la coscienza degli alieni, la coscienza degli umani. Ma no, l'uomo è un'altra cosa. L'uomo è una singola parte che semmai non ha bisogno di riconoscersi nel comportamento degli altri. Chi se ne frega di cosa fanno gli altri? L'essere umano, cosciente, è uomo. È da solo colui che cammina. E gli altri magari un po' a pecora gli vanno dietro. Ma questa parte animica, quanto è interessata realmente a cambiare le condizioni di questo pianeta? La parte animica è molto poco interessata perché è poco consapevole, soprattutto all'inizio del suo percorso, di quello che è venuto a fare qui. In ipnosi venivano fuori delle risposte incredibili. Si prende il soggetto, si mette in ipnosi profonda e durante l'ipnosi profonda quello che viene fuori è che si chiede alla parte animica, ti piace il tuo contenitore? Sì, mi piace. Però è scemo, lui non capisce. Oppure l'abbiamo scelto tutti perché la parte animica parla al plurale. Noi tutti, io sono. Si esprime così. Sai che ci sono dei signori che vengono a prenderti? Sì, lo so. E sai cosa vogliono? Sì, la mia energia. Ah, e tu gliela dai? Sì, perché no? Tanto ne ho tanta. Cioè, no, te non gliela devi dare l'energia perché quella è l'energia tua che te non devi dare ad un altro perché se te gli dai l'energia l'altro non imparerà mai a fare il suo percorso coscienziale. Te stai facendo una cosa incredibile. Se tu dai la tua energia all'altro, l'altro poi finisce che non muore mai e se non muore mai non impara che cosa vuol dire morire. Te lo devi costringere in qualche modo a seguire un percorso di acquisizione, di consapevolezza che non passi attraverso lo sfruttamento tuo. Ebbene, l'anima non sa, questa cosa non la capisce, non la comprende, fino all'istante in cui tu non gli ricordi che lei una volta era la parte di un tutto. Lei era una grande anima, un'anima mundi, dove in realtà anima, mente e spirito, queste tre componenti con tre coscienze diverse che albergano dentro questo corpo che i cattolici chiamano il tabernacolo della Santissima Trinità, non a caso, erano una sfera sola. Non c'era anima, mente e spirito prima, c'era la coscienza che è Dio, la creazione, noi, l'universo. Qualcosa aveva diviso a un certo periodo della nostra vita, della nostra evoluzione? Le tre sfere, che prima erano unite, le aveva divise in tre. Perché? Perché bisogna cercare di costruire un universo duale, con delle barriere, per far capire che ci sono i buoni e i cattivi, l'acceso e lo spento, l'alto e il basso, il comunista e il fascista. In realtà non è vero niente, non c'è il dualismo e quindi non ci sono le barriere, non c'è il dentro e non c'è il fuori, ma noi siamo parte di un tutto. Se uno comprende questo, comprende anche che qualcuno ha usato il sistema del divide ed impera, la coscienza, la presa, la manipolata, la divisa in tre e la coscienza che non sapeva cosa stava succedendo perché non ne aveva esperienza, se è fatta fregà, divisa in tre, beh, io potevo lavorare solo sulla mente, solo sullo spirito per avere l'energia della parte animica. È così che hanno fatto gli alieni, è così che fanno i nostri governanti. I nostri governanti, che non sono alieni, ma alienati forte, cosa fanno quando devono mantenere il loro potere? Facile! Trasformano la lotta tra il popolo e loro in una lotta tra una parte del popolo e l'altra parte del popolo. Facciamo un banale esempio, la Fiat, gli operai contro Marchionne. Cosa fa Marchionne? Fa un referendum interno alla Fiat per dividere gli operai, i quali saranno a favore o contro. Cosa fa la ministra della pubblica istruzione quando ha tutti gli studenti contro, decide che gli studenti si devono confrontare tra di loro e crea un dualismo tra studenti bocconiani e gli altri, ricchi e poveri, tra studenti del sistema e studenti normali, dove il normale ha un significato preciso. Normale per la società vuol dire appartengo al gruppo più numeroso, non vuol dire altro. E allora ecco che cosa fa la Chiesa? Ha inventato il divide e timpera, perché bisogna cambiare tutto per non cambiare niente. Quindi è evidente che i nostri alienati, padroni del nostro pianeta, hanno imparato la tecnica dagli alieni, che sono miliardi di anni più vecchi di noi e da questo punto di vista la sanno lunga. Ecco, quindi l'uomo è al centro, o almeno la parte animica è al centro dell'attenzione proprio perché ha la componente animica, no? Ma qual è la minaccia principale verso la parte animica? Cioè l'amese umano che ha la parte animica, che cosa rappresenta una minaccia reale? Ahimè, devo dire che non esistono minacce reali, perché alla fine dei conti solo chi non ha capito niente come l'alieno o l'alienato può pensare per un solo attimo, farsi l'illusione di poter vincere questa battaglia, cioè di prelevare la coscienza e la parte animica ad un altro per avvantaggiarsene lui. Solo un cretino può fare una cosa del genere, il quale, poverino, non è cretino in senso dispregiativo, ma non avendo la coscienza della parte animica, ma solo la coscienza della parte mentale, della parte spirituale, non avendo quindi consapevolezza di sé, pensa che questo progetto suo di rubare all'altro l'esperienza, evitando così di farla e di soffrire, beh, che questo progetto possa andare avanti. La parte animica, per quanto possa essere stata dissociata e staccata dagli altri suoi due pezzi, finisce sempre per vincere, anche se l'abbiamo trovata inconsapevole all'inizio delle nostre ricerche e ora la troviamo molto più consapevole di prima, perché basta che uno solo comprenda una cosa, che tutti gli altri la comprenderanno, perché l'universo è costruito da un puntino piccolo piccolo, dove siamo dentro tutti nello stesso istante, nello stesso punto, nello stesso momento. L'universo fisico non è locale, secondo la fisica di Bohm, quindi non esiste nello spazio, nello tempo, nell'energia, ma siamo tutti la stessa cosa, come io scopro, cioè mi ricordo chi sono, se lo ricordano tutti a livello inconscio, poi a livello conscio magari leggono qualche cosa che ho scritto io e dicono, ma lo sai che quello che scrive questo signore l'ho sempre saputo? È in quell'istante che tutto quello che c'hai dentro di te, inconsciamente, ti viene fuori e tu ti accorgi che l'hai sempre saputo. Non c'è tripa per gatti, per gli alieni.